Ci sono nuove regole per fermare il Covid e io penso che sia un bene perché il nemico non sono le regole, il nemico è il virus e noi dobbiamo salvare vite umane, la produzione, il lavoro e il nostro Paese e ora con la responsabilità di tutti possiamo farcela di nuovo e sono sicuro che ce la faremo.